e bentornati ragazzi sul canale oggi siamo in provincia di modena nel parco legger giornale dei sassi di rocca malatina per farvi scoprire questa bellissima tipitente dietro di me è una tipitente completamente ecosostenibile fatta di materiale riciclato veramente interessante che oggi sono qua per farvi scoprire quindi come vi dicevo siamo in provincia di modena questa struttura è appena nata perché l'hanno inaugurata appunto il 10 di agosto oggi è il primo di settembre 2021 quindi sono qui per voi diciamo quasi in anteprima non la conosce ancora quasi nessuno io ho deciso di venire qua proprio per farvi conoscere questo bellissimo posto perché proprio sono appassionato di queste strutture un po strane un po particolari che vi mettono veramente a pieno contatto con la natura qua siamo veramente immersi nella natura con una vista spettacolare davanti a me perché ci sono le rocce bellissime tipiche del parco regionale dei sassi qua di rocca malatina e naturalmente perché sono un appassionato di queste strutture che vi permettano di godervi appieno e di dormire nel massimo comfort proprio immersi nella natura magari guardando anche le stelle grazie a tutti questo è un progetto in pratica che si pone lo scopo e diciamo vorrebbe creare queste strutture qui e piazzarle un po in tutta italia adesso sono presenti solo qua in provincia di modena questo è l'unico esemplare che è stato realizzato per adesso l'idea parlando anche con l'ideatore di questo progetto sarebbe quella di portarle un po in giro per tutta italia in modo da far conoscere questo tipo di strutture che tra l'altro l'ha ideata lui stesso quindi l'ideatore è anche la persona con cui ho parlato io che sono fatte completamente con materiale e stoffe riciclate la parte quella frontale questa qui trasparente è di un materiale chiamato crystal che è lo stesso che viene utilizzato nelle bubble suite quindi per tutto quello che è la costruzione dei bubble glamping come sapete io ne ho visitati molti nel canale trovate un sacco di recensioni a riguardo mentre questa stoffa qui che è veramente interessante con delle cuciture ben fatte è una stoffa riciclata fatta quindi presa da tessuti che sono stati riciclati e è stata realizzata da un'azienda di mantua quindi veramente tutto in modo molto locale oltretutto un'azienda di carpi ha realizzato anche questi puff veramente carini che sono fatti di questo cartone ok quindi anche questi veramente ecosostenibili materiale riciclato interessantissimi perché possono stare anche all'aperto senza nessun problema ora andiamo dentro e vi faccio vedere dentro esattamente come è la disposizione dello spazio come è organizzato lo spazio e come è bella e ben fatta quindi adesso siamo davanti l'ingresso di questa tipi tent e come vedete è una struttura molto interessante perché c'è questa parte diciamo esterna questo triangolo che è fatto di una retina antemosche e zanzare che vi permetterà di dormire veramente essendo quasi a contatto con l'esterno altrimenti se volete un po' di privacy o pensate che ci sia troppo freddo potete chiuderla svolgendo quest'altra parte che è la parte quella dello stesso materiale della parte esterna fatta in tessuto riciclato veramente interessante adesso andiamo ad aprirla come vedete qui in basso c'è questo piccolo queste piccole scalette a sgabello che vi permetteranno di entrare dentro l'apertura è a cerniera molto semplice vedete qua semplicissima la potete anche ripiegare tutta c'è un'altra fibbia per ripiegarla e qui entriamo verso l'interno ora entro dentro che si capisce un po' meglio quindi siamo all'interno e come potete vedere un letto comodissimo con un grande piumone il piumone naturalmente serve anche in estate oggi è il primo di settembre ma naturalmente in campagna per chi non lo sapesse l'escursione termica è notevole quindi magari anche se durante il giorno come oggi ci sono 25 gradi sicuramente stasera magari arriveremo anche a 10 gradi e diciamo essendo il materiale di questa tipi tent ecosostenibile e riciclabile non ha diciamo le capacità di mantenimento termico magari del pvc o di altri materiali un pochino più spessi per cui è necessario avere il piumone all'interno io penso che non ci saranno problemi vi farò sapere al riguardo ma sono convinto che si starà veramente come in una favola lo spazio veramente è organizzato molto bene tenete conto che questa tenda ha la forma pentagonale e all'interno di questa tenda c'è stato ricavato un piccolo rettangolo dove è presente un letto a una piazza e mezza che vi permetterà di dormire veramente bene anche in coppia naturalmente sono stati usati tutti i materiali di estrema e massima qualità si sente benissimo anche toccando il piumone il cotone anche del letto che avvolge il materasso intorno diciamo negli spazi che rimangono che sono rimasti liberi dal letto ci sono un po' di accessori sono tutti accessori fatti da un brand di carpi se non erro che lavora praticamente il cartone quindi è una sorta di cartone riciclato ma veramente fatto bene che è tra l'altro resistente anche alle intemperie quindi un materiale veramente innovativo molto particolare sulla parte sinistra del letto ci sono anche delle scatole con qualche libro sempre riguardo questo tipo di strutture così se siete interessati li potete andare a leggere nella parte posteriore dietro di me ora spero poi si possa vedere un pochino meglio quando c'è meno luce c'è una lampada a batteria nel caso che comunque abbiate necessità di un po' di luce alla sera e tutto intorno a questa struttura interna ci sono delle piccole lampadine che si accendono veramente molto carine io l'ho visto per ora in foto tra poco le vedrò dal vivo quando calerà un po' la luce naturalmente insieme al vostro soggiorno vi daranno anche delle torce perché qui siamo un po' in aperta campagna quindi se volete uscire vi servirà la torcia viene dato anche questo zaino qua che è fatto in quel materiale di cartone innovativo che vi dicevo prima e a quell'interno c'è un power bank e c'è anche una borraccia per quanto riguarda il bagno il bagno naturalmente in questa struttura qui che è molto piccola non c'è per cui se volete fare i vostri bisogni all'aria aperta potete farlo altrimenti a 50 metri qua dietro c'è praticamente il bagno dell'agriturismo che ospita questo glamping diciamo che io vi consiglio di farlo all'aria aperta perché c'è tutta un'altra soddisfazione anche se poi il massimo del comfort lo avete nel bagno naturalmente quello dell'agriturismo per chi se lo stesse chiedendo attualmente i prezzi per una notte sono di 75 euro per coppia non vi so dire se saranno cambiati in futuro secondo me sono prezzi molto bassi rispetto alla qualità della location davvero magnifica sia dentro che fuori è inclusa anche una buonissima colazione dolce e salata che gusterete nel patio dell'agriturismo a 100 metri dalla tenda che spettacolo quindi spero che il video vi sia piaciuto sia stato interessante per voi naturalmente io amo farvi conoscere nuove strutture come queste meglio se sono appena aperte quindi veramente ne parlo così avendole viste per la prima volta avendole scoperte io di persona me stesso naturalmente condividete il video con le persone a cui pensate possa essere utile lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non volete perdervi un sacco di altre location come queste che io visiterò prossimamente ce ne sono veramente un sacco in Italia ne stanno nascendo come funghi una dietro l'altra però è sempre bene arrivare in tempo per farvele conoscere a voi in modo che poi possiate prenotarle quando non sono già sold out noi ci vediamo molto molto presto sempre qua sul canale ciao ciao